Tutti i giorni sono trasportati a tutti i cittadini Grazie Silvia, era quello che volevamo Allora Lucia, cosa stai preparando? Sto preparando i mantelli dei soldati Nestole, meglio dire, Nestole dei soldati St'infiamma l'ocultone, no? No, la scoletta sto ripendo Buonasera Tornando al... All'ottone In generale, tu cosa stai facendo? Sto facendo i ricci alle tette I ricci I ricci I ricci Perché quando speci un paio ce ne fai? Ah? Quando ho preso questo, dove sei lui? Io dico, no, l'uscilaccio c'è a dire che si può più diavolo togliarne a pilottare Luisa, cosa stai facendo? Sto perfezionando i vestiti dei romani Ah, quindi tutti i soldati romani Sì, sì Questa volta stiamo perfezionando Da sopra e da sotto Inizia da sopra Da sopra e inizia di qua No, no No, no No, no, no Dai, lo stiamo a dare Ehm... Ehm... Chi si fa ma... Hai visto come si fa il tatelo? Pfff Ma vo' non mi vuole Eh Eh sì Poi dobbiamo guardare adesso E se ce lo fai entrare Vedi che non ci sta la bottega Ti ha più pazienza No ma la stairopecchia Vabbè, no Sotta qua la stai benzi Non c'è un throat No, no, vedi! Che strutture sono le strutture? Questo è il parmentino dei soldati romani. Sicuramente ce la facciamo, se non dovessimo farcela, cerchiamo delle ispezioni, ma sicuramente ce la facciamo, queste li possiamo già portare. Qua, tra l'altro, tra l'altro, chiede a Michele per i vestiti che sapete se stavano portati a Genova o non lo so? Ehi! 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 Grazie a tutti